ciao a tutti benvenuti in un nuovo video finalmente sono tornata so che sono andata via un po di tempo chiede un po che non pubblico un video ma sono tornata ho un paio di video già pronti da dover soltanto montare ma non ho avuto tempo e quindi oggi facciamo questo che è molto più veloce e però non vedo il video è è un video all ebbene sì dopo un sacco di tempo sono tornata da primark che ha riaperto peccato che per quello che fossi andata a comprare non c'era cioè c'era poco e niente e quindi ho preso giusto un paio di scarpe perché io ero andata per comprare delle scarpe e ne ho preso giusto solo un paio perché non ho trovato altre cose che mi piacevano allora il mio scontino da primark è di 50 euro e 50 centesimi ora iniziamo con la carrellata dei prodotti allora ho preso come sempre la scorta di dischetti quindi ce ne dovrebbe essere in giro un altro eccolo qui dischetti per struccarmi 75 centesimi sono 120 pezzi quindi non male ne ho presi due poi un'altra cosa che ho comprato molto carina è questa fascia con i limoni cioè non potevo lasciarli veramente mi sono innamorata di questi limoni bellissimo e è la fascia per i capelli da mettere quando magari ti turucchi o ti strucchi per non avere i capelli davanti al viso e l'ho pagata 2,50 euro guardate quanto è bella cioè quasi quasi non l'aprirei neanche perché il packaging è veramente bellissimo con questi limoni glitterati poi cosa non mia però dato che è nel settetto ve la mostro mutande da uomo queste guardate quanto sono belle con i cactus tutte blu e queste cose sono zebrate bellissime e queste costavano 9 euro poi una cosa di cibo sono i coconut chips al cioccolato che mi piacciono mi piacciono tantissimo le scagliette di cocco o il cioccolato al caramello il caramello le trovo da tiger però ieri ho trovato questo qua al cioccolato da primark e lo comprate però non mi ricordo quanto costassero quindi lo cerchiamo subito 1,50 euro non male poi ho preso un pigiama ed è super bellino ho preso una doppia XL perché non mi ricordo che taglia prendevo e ho detto vabbè piuttosto lo prendo un pochino più grande invece che è un pochino più piccolo lo proverò e nel caso lo vado a cambiare ed è questo qua di Cinderella con i topolini con Gas Gas non mi ricordo come si chiamano gli altri il gatto lucifero e i pantaloncini sono veramente qualcosa di carinissimo cioè guardate con la carrozza, la scarpetta, gli uccellini mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto comprare e costava 8 euro poi l'abbiamo già quasi finita la carrellata in realtà quindi non ho comprato tantissima roba ne ho comprato poca perché appunto ero nata lì soprattutto per le scarpe ma come vi ho detto c'era qualcosa di carino però tipo magari provandole sui miei piedi non mi piacevano e quelle che in realtà mi sono piaciute erano solo un paio poi un'altra cosa sempre utile però sempre bella perché c'è i limoni sono le lime e queste sono costate 1,50 euro e sono 4 lime guardate che bella poi questa qua glitter roccia boh io vedo lucini il glitter divento scema poi candele ho preso questa piccola pink peoni che mi piace in realtà io ce l'ho già nella versione grande solo che non la voglio accendere in quella grande quindi ho deciso di prendere questa qua piccolina la si può accendere e un'altra verde che era quella che avevo già mostrato nell'altro video che però momentaneamente non ho qua perché l'abbiamo già iniziato ad usare e quindi abbiamo preso queste che hanno il costo di 1 euro quindi veramente veramente basso e fattibilissimo ora sono rimasti i tre pezzi da chicca vi mostro le scarpe che le trovo bellissime infatti sono quasi pentite di non aver preso anche l'altro colore ma ora magari più avanti ci faccio un pensiero sono queste scarpe questi sandaletti rosa antico guardate quanto sono carini bellissimi le c'era anche in nero e anche quello era molto bello però non lo so ho optato per prendere questo colore che non ce l'avevo in realtà e l'ho pagata 8 euro e ho preso il numero 40 bellissime cioè veramente belle 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 poi altra cosa super bella è questa statuina del Buddha guardate quanto è carina cioè è stupenda l'abbiamo pagata 7 euro e non so di quanto sia alto il materiale non lo so perché non mi sembra né plastica sicuramente non è vetro però non lo so è forse plastica una plastica strana però è bellissimo è veramente bellissimo noi eravamo andati in realtà perché prima del lockdown avevamo visto delle scimmiette che facevano non vedo non sento non parlo dorate bellissime che avremmo voluto mettere qua in mansarda che ci erano veramente piaciute tantissimo purtroppo non le abbiamo trovate si vede che non ce ne erano già tante prima ora passati i mesi comunque hanno riaperto da un mesetto ormai quasi in negozio e sicuramente sono andate esaurite e quindi però abbiamo trovato questa che ci è piaciuta tantissimo e quindi abbiamo optato per comprarla veramente molto bella e ve l'appoggio qui prima che si rompe ultimo pezzo ma non per importanza anzi è stato un regalino ed è questa tazza di Mulan cioè quanto non è bella ma quanto è bella questa tazza non so ne che so il coraggio di aprirla e tirarla fuori qui ho già Kiko e la teiera e non potevo non avere questa peccato che non ho trovato la teiera di questa perché mi ricordo che c'era anche la teiera perché l'avevo vista in un'immagine però lì non l'ho trovata io sono andata al Primark di Fior d'Aliso però so che quello di Arese perché ci andavo prima che apreste quello di Fior d'Aliso ad Arese la sezione casa è un pochino più vasta che questa qua del Fior d'Aliso se ce la faccio la stiamo aprendo eccoci qui speriamo di non far un danno ma che roba ma quanto è bella questo verde poi è fantasticissimo e l'adoro queste tazze si possono usare benissimo per per fare colazione per berci qualcosa però assolutamente non vanno in lavastoviglie perché sono molto delicate e se no rischi di scolorirle di rovinarle e questa non c'è ah si il prezzo è dietro ed è 7 euro è costata 7 euro non è pochissimo per le tazze di di Primark che costano di meno di solito però anche queste qua le avevo pagate lei 7 euro e lei 14 ad iera e quindi sono stata contenta perché io le facevo il filo ma avevo deciso di lasciarla giù perché non volevo esagerare e invece il mio ragazzo me l'ha messa nel carrello e l'abbiamo comprata e l'ho visto soltanto una volta che eravamo in in cassa e niente sono stra contenta veramente stra stra contenta e niente quindi questo era tutto il mio micro shopping da Primark però ci voglio tornare sicuramente in un altro momento per vedere se trovo altri tipi di scarpe magari un giorno chi lo sa mi porterà ad Arese non si sa ma va bene così va bene anche questo magari vado a farci un salto io da sola non lo so e niente io spero che questo video vi sia piaciuto se anche voi avete fatto acquisti da Primark ultimamente fatemi sapere cosa avete fatto cosa avete comprato cosa vi ha conquistato che magari ci rifaccio un giro i vestiti non li ho neanche guardati a parte il pigiama che l'ho giusto visto lì lo prendo non lo provo neanche se però non li ho guardati più che altro perché c'era tantissima gente c'era veramente tantissima gente si entrava senza problemi senza accodere niente però c'era abbastanza abbastanza casino e quindi ho deciso di se devo vedere i vestiti ci torno un'altra volta una mattina presto quando so che c'è poco e niente appena aperto e nulla quindi vi lascio vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale grandi bacioni ciao a tutti ciao a tutti